Benvenuti agli amici della stampa e di TuttoPatenti, oggi parliamo di segnaletica stradale segnaletica verticale, orizzontale, manuale e luminosa Ricordiamoci che la segnalazione di un agente preposto al controllo del traffico, segnaletica manuale, vale più di qualunque altra segnalazione stradale poi, in ordine di priorità, vale la segnalazione di un semaforo, poi quella di un segnale verticale, per esempio di prescrizione ed infine quella della segnaletica orizzontale, che vale comunque più di una norma generale del codice della strada Facendo degli esempi, il semaforo verde permette di passare e non di dare la precedenza, anche se posto insieme all'obbligo di dare la precedenza Un vigile che intima l'alt, obbliga a fermarsi anche in presenza di un semaforo verde Il divieto di sorpasso non permette di sorpassare nemmeno in presenza di una striscia discontinua Adesso iniziamo a vedere nel dettaglio i segnali di pericolo Il segnale di pericolo è di forma triangolare e viene posto di norma a 150 metri dal pericolo ed in qualche modo deve farmi pensare ad una A di attenzione Quindi, nel simbolo contenuto all'interno del segnale, andremo a definire il tipo di pericolo che viene segnalato Figura 1 Partendo dalla prima figura, parleremo del pericolo causato da una strada dissestata, in cattivo stato d'uso, deformata o con pavimentazione irregolare Non previsa un dosso, non limita la visibilità, ma è un tratto di strada che può causare danni alle sospensioni del veicolo Ed invita a rallentare e tenere saldamente il volante per controllare possibili sbandamenti del veicolo Figura 2 In questo caso, il segnale di pericolo precede un dosso, cioè un tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità Se la visibilità è limitata, è necessario rallentare e tenere strettamente la destra Non è possibile fermarsi, sostare e fare inversione di marcia e sorpassare Il sorpasso è tuttavia consentito anche in presenza del dosso, se la strada è a senso unico Oppure a careggiate separate da sparti traffico, oppure con almeno due corsie per ogni senso di marcia Figura 3 Questo è un segnale di cuneetta, cioè un segnale che precede un tratto di strada in discesa seguito da una salita In questo caso non c'è un problema di visibilità, ma occorre rallentare per evitare eccessive sollecitazioni e sospensioni O addirittura la perdita di aderenza In caso di pioggia, prestare attenzione alle pozzanghere, che possono formarsi nella cuneetta, causando anche acquaplaning Figura 4 Questo segnale precede una curva pericolosa a destra La curva è un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità Se la visibilità è limitata, è necessario rallentare e tenere strettamente la destra Non è possibile fermarsi, sostare, fare inversione di marcia e sorpassare Il sorpasso è tuttavia consentito anche in presenza del dosso, se la strada è a senso unico Oppure a carreggiate separate da sparti traffico, oppure con almeno due corsie per ogni senso di marcia Figura 5 Stesso discorso del segnale precedente, ma in questo caso la curva è a sinistra Figura 6 Presegnala una doppia curva pericolosa, di cui la prima a destra, la seconda a sinistra Valgono gli stessi comportamenti della curva pericolosa descritta in precedenza Segnale 8 Presegnala un passaggio a livello custodito da barriere o semibarriere E viene posto, come gli altri segnali di pericolo, a circa 150 metri dal pericolo Le barriere chiudono completamente la larghezza della carreggiata Le semibarriere chiudono solo la carreggiata, metà carreggiata Ma è assolutamente vietato passarci con uno slalom se sono abbassate In presenza del segnale è necessario moderare la velocità Ed essere pronte ad arrestarsi se le barriere o semibarriere sono chiuse In prossimità del passaggio a livello è presente una luce rossa fissa se il passaggio a livello ha le barriere Doppia luce rossa lampeggiante se il passaggio a livello ha le semibarriere In entrambi i casi le luci rosse sono integrate da un dispositivo di segnalazione acustica Le luci rosse in funzione indicano che è necessario arrestarsi perché le barriere o semibarriere sono in movimento o sono abbassate Evitato fermarsi o sostare in prossimità del passaggio a livello Figura 9 È un segnale di pericolo pertanto si trova a 150 metri da un passaggio a livello incustodito Anche in questo caso è presente nelle immediate vicinanze del passaggio a livello Una luce rossa doppia lampeggiante che se in funzione obbliga di arrestarsi in quanto indica che sta arrivando un treno Evitato fermarsi o sostare in prossimità del passaggio a livello Segnale 10 È una croce di Sant'Andrea e viene posta nelle immediate vicinanze di un passaggio a livello senza barriere È singola se il passaggio a livello ha un solo binario Doppia se ci sono più binari Figura 12 Segnale 13 Pannelli distanziometrici Si utilizzano sia per il passaggio a livello con barriere o semibarriere che per quelli senza barriere Il primo, quello con 3 barre, è posto sotto il segnale di pericolo Quello con 2 barre, è posto a circa 100 metri dal passaggio a livello Quello con una barra, circa 50 metri dal passaggio a livello Figura 14 È un segnale di pericolo che preavvisa che la strada incrocia, interseca o si riduce a causa di un attraversamento tramviario Viene utilizzato sia dentro che fuori i centri abitati laddove l'incrocio con il tram non è regolato da semaforo Ricordarsi che il tram ha la precedenza per cui rallentare predisporsi per dare la precedenza al tram Tenete inoltre presente che il tram ha una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli E che è vietato sorpassare un tram sulla destra quando è fermo per far salire o scendere i passeggeri E non c'è l'apposito salvagente Figura 15 Precede sia su strada urbana che su strada extraurbana un attraversamento pedonale Rallentare predisporsi a fermarsi per dare precedenza a eventuali pedoni che intendono attraversare la strada Figura 16 È un segnale di pericolo e preannuncia un attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segnali sulla carreggiata Figura 17 È un segnale di pericolo e precede un tratto di strada in discesa pericoloso per l'entità della pendenza In questo caso 10% Bisogna tenere presente che in discesa lo spazio di frenatura aumenta Quindi bisogna aumentare la distanza di sicurezza E che per mantenere una velocità moderata è necessario utilizzare una marcia bassa del cambio E non utilizzare continuamente i freni che si surriscalderebbero e diventerebbero meno efficaci Figura 18 È posto prima di un tratto di strada in salita con pendenza del 10% Quindi procedere con prudenza e con una marcia adeguata ad affrontare la salita Figura 19 È un segnale di pericolo posto a circa 150 metri da una strettoia simmetrica nella quale si restringono entrambi i lati della carreggiata È posto su una strada a doppio senso di circolazione Non impone di dare la precedenza di fronte ma solo di procedere con cautela Figura 20 Questa volta la strettoia è asimmetrica Si restringe solo dal lato sinistro della carreggiata Il comportamento è analogo a quello descritto in precedenza Figura 22 È un segnale di pericolo posto a 150 metri da un ponte mobile Può essere integrato con il pannello distanziometrico a tre barre rosse Lo stesso che abbiamo visto con il passaggio a livello Inoltre può essere integrato da un pannello che indica gli orari di manovra o di funzionamento In prossimità del ponte mobile sono presenti due luci rosse lampeggianti Che, se in funzione, obbligano di arrestarsi Figura 23 Presegnala che la strada ha la banchina laterale cedevole Quindi è necessario non stare troppo a destra per evitare di cadere nella cunetta laterale Può essere integrato da un segnale che limita la velocità massima di transito Figura 24 È un segnale che precede un tratto di strada che può diventare sdrucciolevole In caso di particolari condizioni climatiche come pioggia, ghiaccio o neve Deve essere integrato con i pannelli di figura B Se la strada è sdrucciolevole, cioè scivolosa Bisogna moderare la velocità ed evitare tutte le brusche manovre sterzate e frenate improvvise Ed aumentare la distanza di sicurezza Figura 25 È un segnale di pericolo e preannuncia luoghi frequentati da bambini come parchi, scuole e asili Invita pertanto a moderare la velocità per essere eventualmente pronti a fermarsi È evitato superare i veicoli che si sono fermati per lasciare attraversare i bambini Figura 26 Il segnale preannuncia la possibilità di presenza di animali domestici vaganti Che possono attraversare o comunque stare sulla carreggiata È importante essere pronti a fermarsi qualora gli animali dessero segni di spavento Figura 27 Il segnale preannuncia la possibile presenza di animali selvatici vaganti Che possono attraversare o comunque stare sulla carreggiata Fermarsi se gli animali danno segni di spavento O comunque essere pronti ad evitare urti contro gli animali Figura 28 È un segnale di pericolo ma è posto nelle immediate vicinanze E non 150 metri prima come avviene per gli altri segnali di pericolo Dal punto in cui la strada a senso unico diventa doppio senso di circolazione Indica che bisogna usare prudenza E che si potranno incontrare veicoli che provengono dal senso opposto Figura 29 È un segnale di pericolo ed è posto a 150 metri da un incrocio con obbligo di rotatoria Può essere utilizzato sia su strade urbane che su strade extraurbane Figura 30 È un segnale di pericolo ed indica che la strada su un molo Su una banchina portuale eccetera Bisogna usare la massima prudenza soprattutto di notte per evitare di finire in acqua Figura 31 Il segnale indica che ci può essere pietrisco sulla carreggiata Occorre quindi moderare la velocità in quanto il pietrisco fa diminuire l'aderenza delle ruote sull'asfalto E prestare la massima attenzione quando si incrocia un veicolo o si passa accanto a pedoni Anche se distanti dalla carreggiata Perché il pietrisco al nostro passaggio può essere proiettato e causare danni alle persone o alle cose Se è a fondo giallo viene utilizzato in presenza di cantieri stradali ma non vieta la circolazione Figura 32 Il segnale preannuncia la possibile caduta di pietre o massi dal lato sinistro della strada Con possibile presenza di massi sulla carreggiata È consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato dal segnale Figura 33 Stesso discorso appena fatto per il segnale numero 32 Ma questa volta i massi possono accadere dal lato destro della strada Figura 34 È un segnale di pericolo ed indica che a 150 metri si troverà un incrocio regolato da semaforo Rallentare per essere pronti a fermarsi in caso il semaforo emettesse luce rossa In questo segnale è possibile che il disco giallo sia sostituito da una luce gialla vera lampeggiante Inoltre il segnale è a fondo giallo quando viene utilizzato prima di un cantiere stradale Questo segnale è obbligatorio che venga utilizzato sulle strade extraurbane Figura 35 Vale il discorso appena fatto per il segnale di figura 34 Ma in questo caso incontreremo un semaforo posto in modo orizzontale invece che verticale Figura 36 È un segnale di pericolo e viene posto in prossimità di aeroporti e aerodromi Indica che si possono trovare aerei che volano a bassa quota Pertanto possiamo venire abbagliati dai loro fari Oppure sentire un forte ed improvviso rumore È necessario procedere con cautela Figura 37 Il segnale preannuncia un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale Si trova in particolare prima dei viadotti e all'uscita delle gallerie Bisogna tenere saldamente il volante per essere pronti a controllare eventuali scarti del veicolo e prestare la massima attenzione se si è alla guida di veicoli telonati o furgonati di veicoli a due ruote, di veicoli che trainano camper o rimorchi o di veicoli stretti e larghi In ogni caso il pericolo aumenta se aumenta la superficie laterale del veicolo Figura 38 Il segnale indica che ci stiamo avvicinando ad una zona facilmente infiammabile quindi evitare di buttare mozziconi di sigaretta accesi Il segnale è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada interessato Vi ringraziamo dell'attenzione che ci avete riservato e vi diamo appuntamento alle prossime lezioni sempre sulla stampa.it